Bene a tutti ragazzi, benvenuti in questo video Io sono Capitolo01 E come c'è? Salve Zeno01 Come potete vedere ho rimpiazzato la nota di Zeno C'è salvo con Mike Comunque ringrazio a tutti per i 20 iscritti Grazie mille Grazie Chi sei? Qua Allora, quest'oggi faremo delle missioni Ho controllato delle Ho controllato delle missioni E dobbiamo farne ancora tante Perché ne abbiamo fatte soltanto due Quindi iniziamo a fare il farm Non mi picchiare Se no perdo tutta la roba, ok? Ok Allora, farne di cosa? Allora, farne di meloni e di zucca Allora Sei pronto? Allora Facciamo una zappetta Zappetta E' questa E' questa E' questa Perfetto L'ho fatta E quindi quella l'abbiamo fatta Già hai fatto una parte Due Poi Allora vediamo, controlliamo Controlliamo Io non posso correre Vabbè Comunque là c'è Da farlo in giù Ah, bello perché sei morto Ti dispiace di daremi un secondo questi? Senza cadere Ok, devi riprendere le cose No, io me le darei io non me Ok Non le fare cadere Addiooo amici Ok Allora Ok Sto arrivando ok Così almeno posso correre Allora Comunque controlliamo le missioni Ora me le devi ridare le cose ok Non me le ridare qua Ridiammele qua in questa isoletta Non cadere Non cadere Non cadere Dammi Concierto A me A me A me Scusa finta di vomitare le cose Vomita 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 Che cosa è che cosa è che la cosa Ora fare il nether E' un po' difficile Offolo Nero si può fare Allora Abbiamo la lava E abbiamo l'acqua Abbiamo l'acqua Ma non accedere la lava Allora Intanto di fare una bella cacicola Posso fare un attimo Lì so che non ha niente Posso volare? Vabbè lo faremo un po' piccolina, ma... no, Fer, se ti do qualcosa ti vuoi stare un po' fermo? Vieni, devi stare così, ok? Fer, non la prendere! Fermo! È un obiettivo! Allora, ora ti do delle slab, tu, così di shift, devi metterle a formare una casa. Guarda, guarda, te ne do un pochino... Così? Ok, se senti il rumore delle scale, non mi preoccupate. Allora... Allora, questo così... Così... Abbiamo sbagliato le misure, non so... E ricopre tutto questo spazio di slab, ok? E ora se il piccone... Yeeeey! Yuppie! Yuppie! Ora facciamo una specie di cascola... Poi di... Poi di... Poi di... Tutto lo spazio... Bello... Questa qua sarà una specie di cascola un boh particolare... Bene, bene, bene... Ora facciamo così... Così... No... Vuoi venire un secondo comando? Sì... Così... Sì... 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 Visto che la squadra... La strada qua è lunga... Non metti il volo... Non metti il volo... Non metti il volo... Si metti il giusto... Eh... Non metti il giusto... Non metti il giusto... Non metti il giusto... Allora... Allora... Prendiamo il legno... Qua... 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 Comunque... Ditemi... Se... Vi è piaciuto... E mai... Fai blocchi di sodio... Due... Insieme alle robe... Non toglierlo... Allora... Se questo fa da alberelli... Uno ne... Ne metti qua... Ok? E se ne da un altro... Qua... E qua... E qua... Ok? Devi metterlo in tutti gli spazi voi... Se da alberelli... Per esempio questo... Visto per la casa... Allora... Facciamo così... E facciamo... Un albero... Un albero... Un albero... Bravo... Dei parlare... Quanto bello... Si lo so... Qua è una casa... Cioè... Cioè... Questo qua non è una casa... Dicemi cos'è... Qua è per forza una casa... Da... Entra porta... Cos'è più figo... Entra più aria... Giusto... Eh... Bella casa... Ma con bel cos'è è bello... Vabbè... E' finita anche la casa... Yeeeh... E basta... Siamo a 6 minuti e qualcosa... Quindi... Per questo video potrebbe andare... Nel prossimo... Perché... Di quello che so... E' molto difficile... Perché... Bisogna prendere la legna... Per poi... Metterla... E dargli fuoco con la lava... Per poi... Accendere il portale del nether... Quindi... Un po' gli scatti... Per quello che so... Vabbè... Perché non hai ferro? Sì... Ma il pincecillo... Non lo piace... Vabbè... Posta gli alberi... E termina il video... Vediamo che sia troppo... Ultimo... L'ultimo... 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 E' tutto... E' tutto... E' tutto... E noi ci vediamo alla prossima... Bella raggi! Bellissima! Ciao!